Ragazzi ci siamo oggi è il giorno il giorno che tutti stavano aspettando perché oggi cerchiamo una cosa che a molti ragazzi è sconosciuta Mi dispiace per voi anche a molti ragazzi in realtà meno male Nel senso che non l'hanno mai vista Ah no pensavo nel senso che non ci abbiamo le tette No vabbè comunque stavamo a cercare le bocce Sì Abbiamo le bocce, questi romani vecchi che stanno Ma comunque le tette, le mammelle, le sinne, le minne, escile, porca puttana L'età 5 perché la quinta se sa è la taglia perfetta Il suo personaggio è di nazionalità italiana Le migliori sono italiane anche se Lucia, Lucia non è italiana Mozzarellona Quindi è di nazionalità italiana, mozzarellona scusa Lucia però non è italiana No Mozzarellona Mozzarellona Però Santa Lucia Santa Lucia italiana Quindi no non lo so Probabilmente Probabilmente Il suo personaggio è femmina? Sì Il suo personaggio è russo Eccola l'ha trovata Beh con le russi non so male Commenti che se dici sì te esce lei Probabilmente Il suo personaggio è una serie su D-Max Purtroppo no Ma poi come ha scritto D-Max? Sicuro? Il banco delle tette? Non è su D-Max? No, quello è su YouPorn Ah e invece Tettemaster Su YouPorn Tettefatto Che è tettefatto? Tapparefatto River Tettemaster River Tettemaster Mille modi Mille modi Mille modi Mille modi per tette Mille modi di tette Tepepecce Non c'è mille modi di tette Quindi non ci sta su D-Max Anche perché D-Max scritto così non esiste Però vabbè Ha mai fatto scelta solo quello che vuoi fare Un esperto di videogiochi Si usa molto per fare iscritti ora su YouTube Esatto A che fare con il latte? Sbobongia Uuuuuh Sbobongia si Bobongia Un nuovo modo per dire boing boing A che fare con il latte si? Si ho fatto Indovinato Che vuoi dire? So a chi sta pensando ma non mi sembra sia adatto ai bambini E quindi penso sia quello Come nella mascalzone dell'altra volta No no non può essere Io voglio andare avanti Voglio andare avanti Voglio andare Voglio indagare Vuoi vedere le tette? Ma io non avevo detto di no Perché domanda numero uno? No non ti piaceva di di no A merda Ah però a questo punto cercavo mozzarella una scusa A questo punto cercavo santa Pensate a che fare con il mondo dello sport Ha fatto dei servizi sul ciclismo eh Sul ciclismo Si è fatta delle foto di nudo su una bicicletta Ah davvero? Eh si Senza sellino? Anche senza maglietta Davvero non c'era il sellino? No c'era il sellino Stava in piedi con la bicicletta Checcato Quelli suoi porno da anno A che fare con il mondo dello sport Probabilmente Ha un fratello e una sorella? Non lo so Vive in America? Vabbè no c'ha due sorelle veramente grandi C'è da dirlo Solesaggio ho tirato dei video porno? Magari No si Che forse magari? No purtroppo no Solesaggio c'è il nome che inizia per L Aia Solesaggio è scherzosamente chiamata mozzarella Scherzosamente eh Si si Ma che cazzo? Ma che vuol dire? Io mo cerco Voglio cercaa Ma come si fa ancora la taglinetta oggi? Voglio cercare una cosa Ma quanto è serio? Per quanto non è una cosa da bambini Voglio cercare Toglio Cartogno Un momento diciamo indovinato Però non è adatto ai bambini Non è adatto agli adulti Cerchiamo Toglio Cartogno Perché poi vedete se mi diciamo indovinato E' nato in Italia Si Il personaggio ha più di 35 anni? Non lo so Ora si Il personaggio è un cantante? No Il personaggio è femmina? No Il personaggio ha a che fare con il mondo dello sport? No Il personaggio è apparso al canale 5? Oddio dove va a fare una mene? Sua Rai? Sua Rai Guarda che è tossico Ok questo qua Allora Toglio Cartogno lo trova e non lo censura Boh Io voglio protestare Perché me censuri? Luciaia Porcecova e non me le censuri Indrogato di Toglio Cartogno Eh infatti C'è ma dai C'è ancora i buchi qua No non be' Ma che non lo vedi? Sta guardando in mento sta coca Meti l'acqua Meti l'acqua La mendecino Comunque no Ragazzi se mi piace questo video Lasciamo 5.000 like Noi ci becchiamo Come sempre Al prossimo video da Gineador Diteci cosa dobbiamo peccare Vabbè e mi raccomando lasciate like Commentate Instagram Ah oh raga qualcuno C'è seguite su Instagram Cioè altrimenti ci stassi un po' E niente ragazzi di LaGranse è tutto Noi ci becchiamo al prossimo video Bella Ciao